Segui, segui, segui la luce e guarda le scollere uno sopra l'altro e osservo cosa c'è dentro Ciao, 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 grazie di essere qui, 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 come oggi ero molto preso al ritmo qui, 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 oggi voglio fare un video che non ho mai fatto anche se non è nulla di innovativo assolutamente semplicemente non penso di averlo mai fatto sul mio canale e sto parlando di un video dedicato ai light triggers quindi i video dedicati alle luci vi faccio un esempio, ma prima se soffrite di epilessia o vi danno molto fastidio le luci intermittenti, saldate assolutamente in questo video la cosa saluta è prima di tutto, ovviamente, per tutti gli altri ci saranno trigger con la luce adesso imposterò la luce, magari abbasserò un pochino questa luce, vediamo ok? quindi ci saranno trigger con la luce ma non solo, in generale, tutti i trigger quindi tutti i momenti rilassanti di questo video avranno in comune il fatto che verrà usato un oggetto che crea luce io comincerò in realtà appunto da questa però vi faccio un esempio, ho questi occhiali e poi ho queste pacchette e altre cose ancora, diversi oggetti semplicemente la cosa che li accomuna è il fatto che creano una luce e sarà una luce a rilassarvi in questo video io amo i trigger con la luce, amo il follow the light e non so perché non ho fatto questo video prima se anche voi avevate questi trigger e vorreste altri video così mettete un bel mi piace e commentate con il vostro trigger preferito o con una cosa bella che vi è successa oggi l'importante è che appunto lasciate un supporto, un commento a questo video cominciamo cominciamo con un semplice segui la luce segui, segui, segui la luce che si avvicina mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino e cerco di avere il perimetro dello schermo così in questo modo e ti esamino come se tu fossi una prova come un detective, quindi ti guardo bene, ti analizzo cerco di vedere tutti i tuoi dettagli e adesso piano piano mi allontano eh, mi avvicino, mi avvicino e mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino mi allontano, 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 allontano e adesso osserva il mio naso la luce si muoverà attorno a te ma tu devi osservare il mio naso attentamente quindi qui ok, molto bene, molto bene e adesso osserva il mio dito continuo a osservare il mio dito benissimo ok e adesso osserva proprio la luce seguila con lo sguardo mentre si espande e si ritrae si espande e si ritrae e adesso ti chiedo di seguire questo quindi il riflesso della luce ok quindi tu cerca di seguirlo, vedi quando c'è, appunto, seguilo e cercalo anche io lo sto osservando ok riesci a seguirlo? che bella, me ne lascia tanto e infine sempre con la luce puntata qui facciamo un po' di visione periferica quindi ti chiedo di guardare di seguire le mie dita e sposta, 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 sposta lo sguardo qui poco, 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 poco di fuori dello schermo quindi qui, qui, qui quindi sposta lo sguardo qui, qui, qui qui, molto bene è proprio un millimetro al di fuori dello schermo è ok non muovere il tuo sguardo e goditi invece questo tricchero della visione periferica con la luce che si avvicina si allontana e pian piano si riavvicina sempre più vicino tantissimo 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 adesso sposto lo sguardo di nuovo al centro guardo un attimo le mie dita e adesso risposta 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 in qua guarda qua proprio fuori letteralmente fuori dello schermo qui e ancora vicino 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 e si allontana si allontana si allontana si allontana e si riavvicina 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 molto bene puoi rimettere lo sguardo sullo schermo se lo desideri adesso appassiamo ancora un pochino le luci perché voglio fare una specie di tracing con la luce ho questo foglio ovviamente vedi comunque cosa c'è scritto e disegnato però ti chiedo di dirmi o pensare cosa viene illuminato insomma così cosa viene illuminato? e adesso? ok e adesso? e adesso? è troppo illuminoso no? che fail, proviamo questo? no? niente ho già provato ma non viene facciamo così facciamo il tracing invece delle dita, ok? il pollice l'indice il medio l'anulare il mignone e adesso un po' lo sfondo segui la luce sullo sfondo segui, segui, segui segui la luce, segui la luce 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 colorate questa volta siamo proprio quasi al buio e ti chiedo di concentrarti su questa luce che cambia colore la trovo molto ipnotica e aspetta che accendo la candela qui dietro che secondo me ci sta bene accendiamo ok non si vede tanto un po' dai ci abbiamo provato quindi chiedo di osservare il cambio dei colori di questa lampada osservare tutti i colori che ci sono all'interno tutta questa fantasia che va dal centro verso i bordi adesso è rosso si trasforma in rosa e nel mente si sta già trasformando in blu aggiungo anche il rumore bianco a 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 un po' soft e adesso pacchette pacchette ok 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 io amo le pacchette le adoro le adoro lo sapete cominciamo alternandola scegli io se farne solo una puoi scegliere questa che sto indicando o puoi scegliere quest'altra è indifferente però ti consiglio tantissimo di sceglierne una puoi anche non farlo ok e guarda e guarda le scuadere una sopra l'altra in modo lento 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 e adesso ne posso uno di scannerizzo pensa come se questo lento fosse uno scanner che ti passa lungo il corpo e passando ti rilasso sempre di più e come se mettesse delle vibrazioni delle energie che pian piano fanno rilassare tutti i muscoli quindi ogni volta che passi ti senti sempre più rilassato sempre più rilassato sempre più rilassato concentrati solo su questa salute che passa sul tuo viso e sul tuo corpo sull'altro sulle tue braccia e sull'altro sul tuo viso sulle 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 e ancora e ancora passa sul tuo viso che bello l'adoro e passa anche sul mio e mi rilassa all'istante e adesso facciamo con due e ora mi rilassi guardando queste banque che si avvicina il tuo viso che costa tutto il giorno adoro anche questo trigger ok quindi quando si vede tutta la bacchetta tutta la luce ok 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 che bello io le amo davvero ok 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 bene queste forse sono le mie preferite in assoluto infatti ne voglio prendere anche un paio che però non cammino colore magari un po' più piccole però le prenderò però le prenderò ricordatelo perché le adoro le adoro i trigger con queste pacchette scusate in realtà me ne sono scordato uno che è questo prendo questo tubetto metto qui e così e osservo cosa c'è dentro guardiamo a me sembra abbastanza pulito osserviamo se c'è qualcosa in particolare che ha migliorato qualche punto sporco qualche punto con il residuo non lo so direi di no direi che a posto controlliamo anche voi ok e qui proprio vicino controlliamo tu cosa dici? mi sembra a posto che proprio voglio essere minuziosa ok a posto mi sento bene lo adoro ora vado a mettermi questi occhiali che mi donano devo dire immensamente mia vicina vado ad esaminare bene il tuo viso allora direi che intanto facciamo una specie di analisi della pelle controllo che sia tutto un po' a posto allora cominciamo dalla fronte ok è una pelle molto liscia un po' l'attaccatore dei capelli ok sono tinte naturali che i miei si 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 è bello così passiamo alle sopracciglia ok anche l'altro vado ad esaminare ancora meglio con una matitina quindi allora direi che si vado a disegnarti qualche peletto sulle sopracciglia che manca ma non vedi che bello molto bene molto bene sull'altro vado a vedere il naso mi piace molto il tuo naso, ti sta molto bene ok so che è una cosa su cui si è spesso insicuri e mi piace rassicurare questo punto del viso seguiamo un attimo sotto gli occhi un pochino le occhiaie al minimo ce li hanno tutti, è normale ok e un po' di correttura e quella è anche qui passiamo alla nombra e vado un po' a disegnare prima sopra ok ok molto bene esatto ok e vado un po' a disegnare ok benissimo ok fa mio sonore anche i lati del viso sempre molto vicino un po' la macella ok ok le orecchie ok le orecchie le orecchie e le orecchie e le orecchie e un po' anche il collo ok alza un po' ok ok alza un po' ok hai proprio una bella pelle ed è un po' di abbranzatura ok ok la faccia mi permette di esaminarti diciamo addio a questi occhiali e come ultimo trigger con la luce non poteva assolutamente mancare una candela abbiamo proprio una candela piccolina 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 guarda bene segue bene il fuoco e adesso spengo un po' tutte le luci che possono esserci d'intralto vado a passare anche le luci dello sfondo che sono già bassissime ok voglio che la luce di questa candela aiuti il tuo rilassamento quindi chiedo di fare un paio di respiri con me profondi profondi osservando la candela ok osserva la candela e via l'ultimo profondo e avvicino un po' in modo da approfittare della luce della candela facciamo un ultimo respiro profondo e io direi che penso proprio penso proprio si è giunta l'ora e ti è giunta di abbassare le luci e augurarti una buona buonanotte tu continua a guardare la candela buona buonanotte prendi respiri profondi e ti rilassare tutte le cellule del tuo corpo sogni d'oro sogni d'oro good night switch Herren buonanotte e bis mря notte le stanны niente bianchi i pasticcini le fragole un bazzone